Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana, in primo piano il caso di Malika, la 22enne di Castel Fiorentino che è stata cacciata di casa dalla propria famiglia nei giorni scorsi perché ha dichiarato la propria omosessualità. Il consiglio regionale ha voluto esprimere la propria solidarietà a livello unanime con una mozione firmata da tutti i gruppi. Solidarietà nei confronti della 22enne di Castel Fiorentino, Malika, vittima di discriminazione di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori non tollerabile nella Toscana culla di civiltà. Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione a sostegno della giovane ripudiata dalla famiglia perché omosessuale. L'atto di indirizzo impegna la giunta toscana a promuovere iniziative di sostegno e di aiuto nei confronti della ragazza e di tutte le vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Ringrazio i colleghi del consiglio regionale. La Toscana tutta, il consiglio regionale esprime solidarietà a Malika per quanto è successo perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane. Tutti i partiti politici presenti in consiglio regionale hanno accolto il mio appello di fare un atto forte del consiglio regionale che esprimesse solidarietà a Malika quanto persona in quanto tale in grado di esprimere ovviamente la propria sessualità, il proprio orientamento e allo stesso tempo anche fare un atto che impegnasse la giunta per mettere in campo azioni di sostegno qualora necessarie a favore della ragazza per consentire a lei come a tutte quelle altre situazioni che si possono verificare nella nostra regione di esprimere la propria libertà, i propri sentimenti, la propria sessualità e soprattutto la propria libertà. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di libertà e come tale. Questo è un atto importante, è il primo atto pubblico che un consiglio regionale fa in questa direzione e mi auguro che ce ne siano anche altri di sostegno a favore di tutte quelle persone che magari possono essere discriminate ingiustamente per il proprio orientamento sessuale. è folle, è vergognoso, è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori. Quindi a Malika tutta la vicinanza. La vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malika è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente, visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà lei sui social attaccava Giorgia Meloni, mi dispiace che si sia fatta strumentalizzare da questo. La invito a venirci a trovare in consiglio regionale, mi piacerebbe confrontarmi tanto con lei. Solidarietà dall'Assemblea Toscana è stata espressa anche alla ragazza pakistana segregata in casa dai familiari nell'Aretino perché non accettavano la sua relazione con un ragazzo di fede religiosa diversa, lei musulmana, lui induista. Approvata invece a maggioranza, con voto contrario dei gruppi di Fratelli d'Italia e Lega, la mozione è presentata dalla consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle che chiede alla Giunta di attivarsi affinché la proposta di legge cosiddetta ZAN venga discussa e votata in Senato quanto prima. C'è stato un bel dibattito, devo dire, in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare. chi ritiene che debba essere scontato perché la Costituzione già lo dice che non si debba discriminare e quindi che un DDL, una legge su questo sia ultronea e chi invece proprio partendo dalle cronache dice non basta l'affermazione di principio è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte. Io sono intervenuta proprio per sottolineare questo, cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione. Dice, ah ma si rischia di punire le opinioni. Beh, insomma, le opinioni che davvero istigano la discriminazione, che istigano l'omofobia e la transfobia possono essere legittime ma possono essere anche trattenute per sé e non necessariamente espresse a fomentare dibattiti o fomentare condotte di spiriti fragili, di anime deboli, di menti deboli che non sanno affrontare la diversità e che di fronte alla diversità reagiscono con la violenza, con l'odio. Ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno e la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader, Salvini e Meloni, che una legge contro l'omo lesbo bi-transfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. L'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. In Consiglio ho sentito un'arrampicata sugli specchi di Fratelli d'Italia che di fatto prende le distanze da quella che è una questione di giustizia, diritti e rispetto della nostra Costituzione. Torniamo ad occuparci anche della campagna vaccinale anti-covid in Toscana, perché l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini in aula ha risposto ad alcune interrogazioni proprio su queste tematiche. Vediamo. L'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini rispondendo in aula ad un'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega, ha messo nero su bianco tutti i numeri riguardanti la campagna vaccinale anti-covid per la fascia di popolazione di età superiore agli 80 anni. Bezzini è poi intervenuto anche sui provvedimenti che il governo regionale intende adottare per garantire uniformità e trasparenza nella gestione delle liste per la somministrazione dei vaccini, in risposta ad un'interrogazione dei consiglieri di Italia Viva. Noi abbiamo chiesto chiarezza, chiarezza su quel termine altro che veniva individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer, che è chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni. Ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati, faremo un accesso agli atti, cioè vogliamo andare fino in fondo per capire quali vaccini sono stati usati e chi è stato vaccinato in base alle categorie. Poi le linee guida con il nuovo governo DRAI evidentemente sono cambiate, quindi è stata evidenziata anche la priorità da dare su queste somministrazioni e si è parlato finalmente di operatori di prima linea, ma è chiaro che la Regione Toscana non può nascondersi di fronte a un cambio di governo o a delle linee guida perché era evidente che il fatto che si parlasse di vaccinare operatori sanitari in prima linea fosse anche una evidente necessità, una evidente operazione da compiere nel campo vaccinale. Quindi andremo fino in fondo, faremo un accesso agli atti, chiederemo questi dati in maniera più chiara possibile. Noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui novantenni, sui fragili è un dato un po' anomalo, quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe, e indietro sugli ottantenni. Sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79, e ovviamente gli over 90, quello va da sé. Quindi il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini. Avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson & Johnson, che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa subiudice e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici, non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure dentro i sei mesi, ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow-up, cioè tutti quelli che hanno i cinque anni previsti dal sistema sanitario nazionale e dal sistema sanitario regionale con i codici di esenzione. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione, aspettiamo che anche il Ministro apra tutti, perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati. E mi domando, gli altri non sono superfragili? Tutte le statistiche dimostrano che il 16,7% dei malati oncologici nei cinque anni di follow-up, se prendono il Covid, muoiono. Per noi è inaccettabile, vanno vaccinati tutti. Ecco perché chiediamo due cose. La prima è che il Governo faccia un'operazione e acquisti le fiale vaccinali necessarie a vaccinare tutta la popolazione. Il secondo elemento è che la Regione Toscana si metta in riga, faccia gli hub, abbiamo chiesto gli hub per ogni comune. Vedete, se noi non facciamo una diffusione capillare dei centri vaccinali, non riusciremo mai a vaccinare. Abbiamo chiesto di vaccinare 24 ore su 24, abbiamo chiesto lo scudo penale per medici, infermieri e mondo del volontariato che va a vaccinare, compresi i farmacisti. Siamo stati favorevoli alla vaccinazione nelle farmacie, ma occorre che questa vaccinazione venga fatta e venga fatta al più presto possibile. Siamo fermamente convinti che la fase pandemica si può fermare soltanto vaccinando. Ecco perché abbiamo chiesto un'accelerazione alla Regione Toscana. Il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo. La Regione Toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica, specialmente quando si parla di over 80, perché andare su un sito internet non è la stessa fatica per un ottantenne, per il sottoscritto o addirittura per un sedicenne. È evidente che è un percorso differente. Quindi da questo punto di vista ci sono tantissime persone che ci chiamano quotidianamente, come chiamano quotidianamente i consiglieri degli altri partiti di maggioranza e mi immagino anche della Giunta. A questi dobbiamo dare delle risposte dopo ormai mesi che è cominciata la campagna vaccinale e la risposta non può essere limitata a un sito internet, a uno schermo di un computer. Infine la tragedia del Moby Prince, perché il Consiglio regionale ha voluto dedicare una targa proprio alle 140 vittime della tragedia avvenuta a largo del porto di Livorno in occasione del trentennale di questa tremenda tragedia e allora cerchiamo di sentire quali sono anche gli obiettivi del Consiglio regionale dell'Assemblea Toscana tramite le parole del Presidente Antonio Mazzeo che ha auspicato una commissione di inchiesta a livello nazionale. A pochi giorni dal trentesimo anniversario il Consiglio regionale della Toscana ha ricordato la strage della Moby Prince, il più grande disastro della storia mercantile del nostro paese. Il 10 aprile del 1991, di fronte al porto di Livorno, nello scontro con la petroliera Agi Pabruzzo, morirono 140 persone. Negli anni si sono susseguiti filoni di indagini e commissioni parlamentari di inchiesta, ma al momento per la giustizia italiana non ci sono colpevoli il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. ha scoperto una targa commemorativa. È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi ponendo, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Moby Prince vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'ufficio di Presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti, al collega Landi per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa. E per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre restare informati e aggiornati anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it su tutte le novità, tutte le notizie che riguardano l'Assemblea regionale. È davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento ovviamente su RTV38. Arrivederci. Grazie a tutti.